Battleborn è la nuova proprietà intellettuale degli attivissimi Gearbox, storici autori di un franchise seminale come Borderlands. Battleborn, disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, è prima di tutto un esperimento riuscito, l'ennesima scommessa vinta dal team capitanato dal vulcanico Randy Pitchford. Uno sparatutto in prima persona che miscela con sapienza elementi presi di peso dal fantasmagorico successo dei multiplayer online Battle Arena più recenti. 25 personaggi, ognuno dotato di caratteristiche, armi e abilità peculiari, costituiscono un roster estremamente eterogeneo, col quale costruire il proprio team di cinque personaggi e buttarsi a capofitto nella campagna. La natura multigiocatore e cooperativa di Battleborn è chiaramente leggibile ed è specialmente in compagnia che si potrà godere della stratificazione che lo caratterizza. Ritmi intensi, incursioni nel genere tower defense ed un'ottima varietà di fondo non possono che fare la felicità degli appassionati, anche considerando che ad ogni match, come nei MOBA, i potenziamenti si resettano, a tutto vantaggio dei cambi di tattica. Il multiplayer competitivo è ancora più soddisfacente, facendone risaltare le qualità da autentico hero shooter. Esteticamente interessante, nonostante i 30 frame per secondo, Battleborn convince e diverte. Assolutamente da provare!